signori buongiorno ben ritrovati buonanissima settimana signora buco signor sparaggi possiamo capire l'appello gentilmente buongiorno presidente buona settimana a tutti sono buongiorno presidente 10 e 33 are su assente cannella assente presente maraventano assente nona assente fernice assente sino assente assente fumarello assente valenti assente presente solo lei presidente costato l'assenza del nuovo lega il presidente chiude la salute e la ringhia più tardi da un'ora all'ora 11 a 33 d'accordo più tardi a dopo a dopo